Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà! Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare il pianoforte Oggi siamo in compagnia di Lorenzo Appio Ciao! E vi insegneremo una canzone molto bella di... Di Sfere Basta e Blanco che si chiama Mi Fa Impazzire Yeah! Bene ragazzi, prima di andare avanti con questo video Io vi ricordo di iscrivervi al canale e non perdere nessuno dei nostri video Assolutamente, quindi attivate anche la campanella così ogni volta che esce un video Arriva la notifica E poi te le guardo allo subito Andiamo agli acconti! Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi soltanto Che sono il Do diesis minore Quindi questo è il Do dove ci sono i due tasti neri a sinistra Do diesis, Mi, Sol diesis Questo è il Do diesis minore Poi avremo Si maggiore Andiamo indietro Si, Re diesis, Fa diesis Ed infine Mi maggiore Quindi questo è Mi, Sol diesis, Si E poi si ripeterà il Si Ma il giro sarà sempre uguale Vi facciamo ascoltare come fa Come si fa, come si fa, come si fa, mezza rumore Di una stanza, come si fa, come si fa, solo adottane E mi fai impazzire Ho i tuoi baci sul collo, sono come ferite Tu mi sai fare male, sì tu mi fai impazzire Ma se non ci sei attorno, qua mi va tutto storto E a lui lo vuole morto, invece ancora mi scrivo Quest'estate si sono prese, è la mia parte migliore Colpa loro se non mi fido più delle persone E non esista una storia per i danni sul cuo Come il vuoto con dei tagli di diverso collo Non so come si fa, come si fa Senza rumore, giri la stanza Come si fa, come si fa Sola volta andata in una stampa di vita E mi fai impazzire E mi fai impazzire E mi fai impazzire E mi fai impazzire Anche se mi fai male Senza non ci so stare E mi fai impazzire E mi fai impazzire Bene, la canzone praticamente sia nella strofa che nel ritornello Ha sempre questi tre accordi E va avanti sempre così Bene, come abbiamo visto anche questa è una canzone molto semplice da suonare il pianoforte Io ringrazio Lorenzo Per averci aiutato E vi lascio in descrizione come sempre il link dove trovate il testo con gli accordi Poi altri due link per imparare le scale e gli accordi principali al pianoforte Ed in più la diteggiatura per entrambe le mani Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra Potete farlo, c'è una puntata Vi lascio il link in descrizione Così potete guardare e vedere come poterlo fare Ok? Ciao ragazzi Alla prossima Ciao